Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Sonnerd, eccoci qua su DialectFollowing e oggi siamo qui a guardarci il panorama di questo bellissimo paesaggio no vabbè scherzo dai comunque no ragazzi, oggi siamo qui in questo punto della mappa stavamo vicino a un nido di notturni qua e precisamente parlando stiamo vicino a... dove sta Bilal e vicino a questo nido qua ho trovato un... una cassa, così, a caso ovviamente abbiamo trovato questo paragadute sfasciato che sicuramente ci sarà un uomo morto da qualche parte qui no vabbè, ma niente e con questa cassa che sicuramente, guarda a caso, sarà impossibile da aprire però noi proviamo lo stesso nuova località, segnato su una mappa ok allora, praticamente non ho capito un cazzo ho detto francamente ci siamo praticamente trovati qua vicino a questa cassa abbiamo cliccata e abbiamo segnato una nuova località sulla mappa credo che sia questo punto con scritto scatola... ma cazzo lo possiamo aprire, se io no queste cose io non le capisco niente, vabbè ragazzi, comunque dai volevo praticamente farvi vedere questa... cosa qua non lo so niente, non si apre comunque ragazzi, dai spero di riuscire a... sia di aprire questa scatola stranamente faccio solo video in cui le scatole non si... cioè scopro dei nuovi posti però le scatole non si aprono strano e vabbè, comunque, cercherò sia di aprire quella con i codici nucleari che è questa che sarà una password sicuramente e vabbè, comunque, spero che comunque questo mistero vi sia piaciuto e mi raccomando, se voi trovate qualcosa comunque non so, scrivete sotto così almeno... non lo so, mi date la mano perché io da solo non è che sia una cina e queste cose però comunque dai, ci provo e vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto se volete lasciate un commento, mettete un piaccio iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao